Covid-19, 448 nuovi casi nelle Marche, 81 nella provincia di Pesaro Urbino. Furto con spaccata in Viale Trieste, l'appello sui social del titolare. Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Pesaro. A Gradara, visita in streaming della Rocca, presentato il progetto. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera a tutti voi che state guardando il canale 633. Oggi è mercoledì 25 novembre e questa sera vogliamo iniziare parlando di cronaca e di furti nelle nostre città. Dopo la situazione grave che ha colpito Fano con diversi furti ai ristoranti che al momento, come ben sapete, sono chiusi, ecco i furti arrivano anche a Pesaro. E allora un ennesimo furto, quello di oggi registrato proprio ai danni di un'attività commerciale situata nella zona mare, dove la scorsa notte due soggetti si sono introdotti all'interno di Casa Fazzi Poc. A rendere noto il colpo subito sono stati gli stessi titolari dell'esercizio che sui social hanno pubblicato alcune immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza raffiguranti i due malviventi all'interno del locale. I ladri, dopo aver rotto la porta d'ingresso con una pietra di grandi dimensioni, si sono subito diretti alla cassa. Qualche centinaio d'euro, il bottino prelevato dai due, che nei video registrati dalle telecamere compaiono ben coperti in volto. Sporta la denuncia in questura, il titolare ha quindi lanciato un appello attraverso i propri social al fine di essere contattato se qualcuno, attraverso gli scatti pubblicati, dovesse riconoscere l'identità dei due uomini. Ed ora il consueto appuntamento con i dati del coronavirus nel nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.763 tamponi, 1.721 nel percorso nuove diagnosi, 2.042 nel percorso guariti. I positivi sono 448 nel percorso nuove diagnosi, con 81 casi segnalati nella provincia di Pesaro e Urbino. I soggetti sintomatici rilevati sul totale dei nuovi casi sono 79, altri 109 contatti invece sono stati rintracciati in setting domestico. Oggi è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche se in maniera ridotta a causa del covid, anche a Pesaro. Sono stati diversi momenti organizzati a partire da questa mattina per tenere alta l'attenzione su questo problema davvero molto importante. Ve lo raccontiamo in questo primo servizio di Daniele Romagna. Nell'anno dettato dal covid-19 non si sono fermate le iniziative dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche a Pesaro, infatti, a partire da questa mattina, diversi sono stati gli appuntamenti per tenere alta l'attenzione sulla tematica che si ricorda il 25 novembre. In Piazza del Popolo, Soroptimist Pesaro, nell'ambito del progetto internazionale Orange the World, ha distribuito le mascherine realizzate insieme al liceo artistico Mengaroni. Abbiamo voluto essere presenti in questo momento, è un momento importante, impegnativo, delicato, estremamente, che racconta tanta sofferenza. È nata da una sfida con un'amica, la presidente del Soroptimist, Patrizia Bontempelli, che ogni anno ci sostiene nel comunicare, comunicare appunto questi messaggi. Quest'anno ci siamo detti come, come, perché, quando, in questo momento così difficile. Le ho lanciato una sfida, le ho parlato di mascherine, ha taciuto e 24 ore dopo mi ha detto Isabella lo facciamo. A quel punto ho avuto problemi io. Come far lavorare delle creature che, povere di questa sofferenza, forse qualcuno ne sa qualcosa. È come trasmettere su un veicolo così difficile che è una mascherina. E soprattutto con una delicatezza, con un'attenzione, con una voglia di non raccontare sofferenze, ma regalare un momento di attenzione, di carezza, di sostegno, di modalità per una richiesta di aiuto. La mascherina non è un veicolo di comunicazione semplice, ma è molto forte e molto potente. Sor Optimist è un'associazione di donne, tutte professioniste, che mettono generalmente a disposizione la loro professionalità per aiutare altre donne che sono in difficoltà. Il club compie quest'anno, nel 2021, compie 100 anni. quindi è un club antico e che porta avanti sempre questo tema della uguaglianza tra uomo e donna. E ancora purtroppo non ci siamo arrivati, però spero in un futuro migliore. L'anno scorso abbiamo presentato dei totem che abbiamo messo di fianco alle fontane di Piazzale Matteotti e Piazzale Europa. Quest'anno invece abbiamo pensato, visto la situazione covid, le mascherine vengono sempre usate da tutti, abbiamo pensato di proporre delle immagini che ricordassero questa giornata e quindi tutti quanti potessero portarla sul viso. Sempre in mattinata, Comune di Pesaro e Percorso Donna hanno aderito e presentato l'iniziativa Scarpette Rosse in Ceramica, promossa dall'Associazione Italiana Città della Ceramica. Le opere realizzate dai maestri ceramisti saranno esposte fino al 6 dicembre con orario 10-19 nel locale al piano terra di Palazzo Mazzolari Mosca. Siamo molto contenti e molto lieti di aver accettato questo invito del Comune di Pesaro e ricordiamo con questo anche la collaborazione con la ceramica pesarese e quindi con l'Associazione Amici della Ceramica che l'anno scorso in occasione appunto del nostro festival ci ha donato questo tozzetto messo in un luogo simbolo per noi della città di Pesaro appunto all'incrocio tra la provincia, il Comune e il Centro Antiviolenza. Questo fa sì appunto che la collaborazione si estenda e che quindi la voce contro la violenza sulle donne venga portata da più enti insieme, da più associazioni insieme. In questo caso l'arte da voce ha una sensibilità sociale che deve arrivare a tutti e a tutte. Pesaro da qualche mese è rientrata a far parte dell'ICC che è l'Associazione Italiana delle Città della Ceramica, le più importanti, con Faenza, insomma tutte le città attive da questo punto di vista e una delle campagne che l'Associazione porta avanti è quella delle Scarpette Rosse, ovvero in corrispondenza del 25 novembre chiedere agli artisti delle varie città, delle varie comunità un lavoro in particolare sul tema delle Scarpette Rosse. In corrispondenza del tozzetto percorso donna appoggiamo una delle scarpe in ceramica che in realtà potranno essere esposte nel negozietto che fu di Sora, insomma ora è serie espositiva della città e anche un omaggio tra l'altro sia a Claudio Sora che a una donna, Marcella Molaroni, che ci hanno lasciato entrambi nei mesi scorsi e che sarà forse anche una delle poche mostre visibili in questo periodo perché è una mostra in cui non si entra dentro ma si vede dalla strada direttamente attraverso la vetrina l'insieme delle opere e quindi a tema Scarpette Rosse è un ulteriore omaggio da parte della città di Pesaro a questo tema così importante da tenere vivo non solo il 25 chiaramente ma tutto l'anno e nonostante sia di oggi anche la notizia di altri due femminicidi, uno in Calabria, uno a Padova, ma appunto attraverso l'arte, attraverso la bellezza dare un messaggio di forte controtendenza e di sensibilizzazione verso questo tema assolutamente di drammatica attualità. E continueremo a parlare di questo importante argomento della giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche questa sera alle 21.30 con uno speciale condotto da Antonio Astuti che racconta l'attività del centro antiviolenza Parla con noi. Ne vediamo quindi adesso un'anticipazione con le parole della coordinatrice Gabriella Guerra che racconta come un periodo molto particolare vissuto proprio quest'anno ovvero il lockdown abbia portato alla luce diversi casi di violenza domestica. Siamo 18 a lavorare presso il centro antiviolenza che è un servizio pubblico e in quanto pubblico significa anche gratuito. È un servizio dell'ambito territoriale 1 del comune di Pesaro ed è in gestione alla cooperativa labirinto di cui noi facciamo parte e collaboriamo insieme a Percorso Donna che è un'associazione che mette a disposizione all'interno del centro antiviolenza delle volontarie. Abbiamo aperto nell'aprile del 2009 e ad oggi da allora abbiamo incontrato 1292 donne abbiamo preso in carico quindi il numero è alto. Si è tanto parlato in situazioni in questo periodo particolare di Covid che sono diminuite le denunce o le richieste proprio di intervento ma è un dato sul quale effettivamente riflettere in questo modo è vero o non è vero? Perché sapete il lockdown, la convivenza forzata dentro le case si è detto che queste violenze domestiche magari erano addirittura aumentate senza che si sapesse è una cosa reale oppure no? Dunque, i dati ci raccontano che al 1522, che è il numero verde nazionale, dicevo le richieste di aiuto sono raddoppiate, siamo arrivati ad un più 119%, questo a livello nazionale. Cosa è successo da noi al nostro centro antiviolenza? Purtroppo il primo marzo come sappiamo è arrivato il lockdown, il centro antiviolenza però non ha mai chiuso chiaramente perché era esattamente quello il momento in cui invece bisognava esserci quindi non abbiamo mai chiuso. Un'operatrice è sempre stata presente al centro, tutte le altre operatrici attraverso dei cellulari aziendali hanno continuato a contattare sia le donne che avevamo già in carico sia le donne nuove che avrebbero voluto accedere. Chiaramente però in quei primi tre mesi c'è stato un calo facendo una comparazione teniamo presente che nel marzo-aprile-maggio del 2019 avevamo avuto 38 nuovi accessi, nel marzo-aprile-maggio del 2020 abbiamo avuto 22 nuovi accessi quindi è chiaro che c'è stato in quel momento lì un calo drastico. Però poi noi dal primo giugno abbiamo riaperto in presenza gli appuntamenti e c'è stato poi un'escalation di aumento invece di accessi. Teniamo conto che nell'ultimo mese noi abbiamo avuto accessi di 4-5 donne nuove ogni settimana. In totale in questo momento abbiamo in carico 48 persone, 48 donne e volendo portare il dato del 2020 dal primo gennaio ad oggi abbiamo seguito 106 persone, 106 donne. Quindi ripeto è vero che c'è stato in quel momento lì a proposito del periodo del covid un calo ma poi dopo a seguire invece c'è stato un notevole incremento degli accessi. Sempre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne è stata pubblicata proprio oggi dalla direzione centrale della polizia criminale un'analisi con i numeri concreti provenienti da tutte le forze di polizia d'Italia che la violenza contro le donne genera ogni anno. Per quanto riguarda ad esempio la provincia di Pesaro Urbino i reati rilevati sono stati seguenti. Nei primi nove mesi del 2020 non è stato registrato alcun caso di omicidio a differenza dell'anno passato in cui se ne verificarono due. 25 invece gli episodi di violenza sessuale segnalati nel 2020 un numero praticamente identico rispetto al 2019. I maltrattamenti in famiglia sono stati 65 a differenza degli 84 casi segnalati l'anno scorso e infine calano di poco gli atti persecutori 39 quelli evidenziati nell'anno corrente. Sempre oggi saranno illuminate di arancione le caserme dell'arma dei carabinieri che ospitano le 150 stanze del progetto Una stanza tutta per sé. Nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite grazie a una collaborazione istituzionale tra l'arma e il Soroptimis International Italia. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di sanità, la carenza di medici e infermieri soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo attualmente è un problema ormai noto a livello nazionale. Proprio dal bisogno di reclutare più personale nasce la mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico Andrea Biancani e votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. Vediamo di cosa si tratta. È stata approvata in Consiglio regionale una mozione che ho presentato che è stata sottoscritta anche dagli altri consiglieri del Partito Democratico e anche da Nascimarche che pone l'attenzione rispetto alla carenza di medici e infermieri nelle strutture sia sanitarie che sociosanitarie. Ormai sono anni che al di là del fatto che non vengono fatti concorsi, questo è sicuramente un problema, ma nella realtà quella che è la quantità di personale, quindi di medici, di infermieri che poi sono realmente disponibili, i numeri sono veramente molto ridotti. Questi numeri ridotti sono legati al fatto che nel corso degli anni quelli che sono i calcoli, i meccanismi per quantificare il fabbisogno, cioè per calcolare quelli che sono o gli infermieri che possono essere ammessi ai corsi di formazione o i medici che si possono iscrivere ai corsi universitari, si è cercato sempre di ridurre questo numero, che oggi ha portato al fatto che nel nostro Paese, non solamente a livello regionale, quindi nelle marche, ma a livello nazionale, i medici e gli infermieri mancano. Dall'altra parte ho voluto opporre l'attenzione rispetto a quello che viene definito l'imbuto formativo, che riguarda il percorso di formazione post laurea, soprattutto dei medici, i quali, nonostante che siano pochi a potersi laureare in medicina, una volta che prendono questa laurea, devono comunque fare un'attività di formazione, ad esempio per diventare radiologo, oncologo, quindi per qualsiasi tipo di specializzazione è necessario un percorso formativo. Bene, anche per quanto riguarda i corsi di formazione sono minori, sono un numero ridotto rispetto alla quantità di medici che si sono laureati. Se voi sommate quindi il fatto che nel corso degli anni sono stati sempre ridotti la quantità di medici e infermieri che potevano laurearsi al fatto dell'imbuto formativo, a questo aggiungi il fatto che nel corso degli anni, se per ridurre la spesa pubblica la quantità di infermieri e medici che sono stati assunti nelle varie strutture si sono ridotti anno dopo anno, ho ritenuto importante che quindi ha posto un problema a livello nazionale, dove venga aperto anche in maniera straordinaria per i prossimi anni la possibilità di accedere a questi corsi di formazione universitario. Voglio anche ricordare che per formare un medico ci vogliono circa 10 anni, per formare un infermiere ci vogliono almeno 3 anni e quindi se partiamo oggi noi potremmo avere un aumento di quello che sono i soggetti, cioè le persone che sono qualificate tra diversi anni. Mi sembrava importante sottolineare questo aspetto, devo dire che questo mio atto, questa mozione è stata votata all'unanimità, quindi sia dal centro-sinistra ma anche dal centro-destra il Consiglio regionale e mi auguro che possa essere importante per riuscire ad aumentare e implementare e quindi riuscire a dare più servizi alle varie strutture sanitarie ma anche i sociosanitarie del nostro territorio. E adesso ci spostiamo a Gradara perché è stato presentato questa mattina un progetto molto originale dedicato alla storica Rocca. Infatti partiranno a breve dei tour in streaming attraverso cui poter conoscere in maniera davvero originale il monumento più visitato dell'intera regione. È stato presentato questa mattina il nuovo progetto di visite guidate in streaming alla Rocca di Gradara. L'apertura al pubblico del monumento più visitato della regione Marche è interdetta dallo scorso 6 novembre e proprio per questo il comune di Gradara insieme a Gradara Innova, Fondazione Marche Cultura e Globe Inside ha deciso di sperimentare per la prima volta in Italia una nuovissima tecnologia in grado di realizzare visite guidate e veri propri tour didattico-educativi in streaming. Il visitatore potrà acquistare online un biglietto virtuale e per notare così una visita guidata con una guida presente in carne e ossa all'interno della Rocca. Un click al link ricevuto per email o al cellulare e l'esperienza avrà inizio. Collegato dal pc o da dispositivi mobili, il visitatore comodamente a distanza avrà modo di seguire la guida che percorrerà fisicamente le sale e gli ambienti della fortezza. Entrambi potranno avere un contatto costante e in tempo reale, come se si partecipasse ad un vero e proprio tour in presenza. In qualunque momento infatti il turista virtuale avrà la possibilità di rivolgere domande e curiosità, ma anche chiedere all'operatore di orientare l'occhio della telecamera su particolari che suscitano il suo interesse. Sono chiari aspetti innovativi di quello che andremo a proporre oggi, non solamente in questo periodo di difficoltà in quale sia impossibile entrare fisicamente dentro alla Rocca come visitatore, ma anche in un futuro perché si presta, come vedrete, a tantissime applicazioni e contenuti extra e quindi non solamente finalizzato a rendere furibile la Rocca da remoto in questi periodi, ma anche per il futuro, soprattutto utilizzando nell'applicazione delle, è uno dei nostri settori più importanti che sono le visite scolastiche, le visite didattiche. Il nostro software, che poi appunto vedrete in azione, funziona con una parte di regia, cioè c'è una parte di regia dove i contenuti multimediali, le mappe, piuttosto che lo streaming video, eccetera, vengono gestiti in modo da rendervi proprio l'effetto televisivo, sostanzialmente. La guida presente sul territorio, come vedrete anche tra poco, viene presentata in streaming audio-video e la comunicazione è bidirezionale, quindi lui parla, voi potete farti le domande e è tutto molto semplice da utilizzare. Il turismo scolastico è fondamentale per quanto ci riguarda e per questa ragione volevamo offrire un prodotto che per le scuole potesse rappresentare veramente qualcosa di più. Questo ci tengo a sottolinearlo. Noi lavoriamo in quest'ambito, nell'ambito dei servizi educativi della didattica in maniera innovativa, credo, da oltre 20 anni e sono convinta che questo nuovo prodotto che andiamo sviluppando rientri perfettamente, sia perfettamente coerente con la proposta che abbiamo fatto finora. L'appuntamento con la prima guida in streaming è in programma domenica 29 novembre alle 18 e i biglietti si potranno acquistare sulla piattaforma MidaTicket. Come abbiamo preannunciato nell'edizione di ieri del nostro telegiornale sono iniziati gli interventi per smantellare il cantiere esterno di Palazzo Perticari. Nello specifico verranno rimossi la gru e la base in cemento che coprivano ormai da diversi anni la facciata del palazzo. Per operare in condizioni di sicurezza, corso 11 settembre, sarà chiuso al transito di pedoni e mezzi fino a domani dalle 7 alle ore 19. Sarà riaperto ufficialmente sabato 28 novembre il ponte Il Legno sul fiume Foglia della pista ciclopedonale che collega la frazione di Bottega a Pian del Bruscolo dopo la chiusura disposta per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione. Il sindaco del comune di Montellabate Cinziaferri insieme all'assessore alle pari opportunità Ramona Pensierini in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne hanno inaugurato la prima panchina rossa installata dal comune di Montellabate uno dei simboli riconosciuti per dire no ad ogni forma di violenza. Anche a Borgo Santa Maria è stata inaugurata questa mattina una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Lo aveva annunciato nel nostro salotto televisivo Casarossini il sindaco Matteo Ricci e quindi adesso ve lo raccontiamo al meglio perché sabato 5 dicembre ci sarà il Future Day Pesaro Next Generation, una giornata di confronto e programmazione sul futuro della città. Ha sottolineato appunto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci un momento di confronto e idee pensando anche alle opportunità di investimento che arriveranno dallo Stato ma anche dall'Europa grazie al Recovery Plan. Appuntamento quindi il 5 dicembre a partire dalle 15 in streaming con tavoli tematici e ospiti illustri tra questi l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, la giornalista di Rete 4 Veronica Gentili, l'evento è organizzato dai gruppi consigliari di maggioranza e dall'Associazione Pesaro Un Gran Bel Po. È partita lo scorso fine settimana la nuova edizione della colletta alimentare. Il Covid-19 infatti non ha fermato l'impegno annuale del Banco Alimentare a sostegno delle persone più in difficoltà. Diverse però le modifiche che sono state apportate chiaramente all'iniziativa per permettere lo svolgimento. Sentiamo quali sono nel prossimo servizio. Cambia la forma ma non la sostanza. È questo il messaggio lanciato dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Ollus per la colletta alimentare 2020 che quest'anno è costretta a modificare i suoi tradizionali metodi di svolgimento. A causa dell'emergenza Covid infatti per salvaguardare la salute di tutti gli operatori le donazioni avverranno attraverso l'acquisto di card che successivamente saranno convertite in genere alimentari in base all'importo selezionato. Un impegno puntuale è quello della Fondazione Banco Alimentare Marche Ollus che nel 2019 ha distribuito oltre 2.300 tonnellate di alimenti a 300 strutture caritative raggiungendo così 38.000 persone in stato di bisogno. Troveremo alle casse dei supermercati aderenti delle card che riportano ovviamente il logo del Banco Alimentare che corrispondono a un valore di donazione di 2, 5 o 10 euro. Mi raccomando non è una raccolta in denaro perché il corrispondente di quella donazione sarà convertito in cibo che ci verrà poi consegnato dalle grandi catene successivamente. Noi a nostra volta lo potremo distribuire come sempre gratuitamente ai nostri 300 enti caritatevoli del territorio. Noi siamo abituati proprio alla fisicità, all'incontro, alla gratuità del dono ma anche la card può essere veramente un'occasione di dono quindi lo chiediamo a tutti e anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i responsabili, i direttori di punti vendita, i cassieri, le cassiere che in questi giorni si stanno veramente coinvolgendo in prima persona perché sono loro che ricordano alle persone che fanno la spesa che con la card possono fare un grande dono al Banco Alimentare. Vi ricordo che è cominciata la raccolta il 21 novembre, quindi sabato e proseguirà fino all'8 dicembre quindi l'altra novità grande di questa colletta è la durata è molto più lunga, tutti i giorni potremo donare ricordiamoci che potremo farlo alle casse dei supermercati aderenti ma anche online, quindi anche online sul sito del Banco Alimentare oppure su My Gift Card troveremo la card per donare al Banco Alimentare tenete conto che quest'anno anche in questa forma così difficile siccome l'emergenza ha aumentato la povertà quindi vi chiediamo davvero di essere vicini di donare, anche se in questa forma perché davvero l'anno scorso abbiamo raccolto 250 tonnellate di cibo quest'anno ci auguriamo che questa quantità non diminuisca di molto perché il bisogno è davvero aumentato ricordiamo anche, vogliamo ringraziare tutti gli enti caritatevoli che con noi stanno diffondendo questa nuova modalità voglio anche ricordare, perché è una cosa molto bella che ci sono delle realtà cittadine come il Giardino di Santa Maria che ha deciso di dedicare, di donare una parte del ricavato della vendita degli alberi di Natale che accadrà nella fine settimana del 7-8 dicembre al Banco Alimentare quindi si stanno mobilitando anche delle aziende delle realtà del nostro territorio non solo a Pesaro, in tutte le marche proprio per poter davvero espandere questa capacità di dono perché quest'anno ce n'è veramente bisogno e allora mi raccomando partecipate alle iniziative della colletta alimentare per aiutare chi ha bisogno e adesso andiamo a vedere la programmazione di questa sera una programmazione molto ricca a partire dalle 21.15 infatti il video orientamento del Liceo Artistico Mengaroni vi faremo vedere i corsi e tutte le attività che solitamente il Liceo Artistico fa poi a seguire questo appuntamento ci sarà alle 21.30 un racconto, un dibattito presentato appunto da Antonio Astuti in collaborazione con la cooperativa Labirinto si parlerà dei servizi dedicati alle donne nella provincia di Pesaro Urbino con il centro antiviolenza Parla con noi vi ricordiamo anche che domani sera torna una nuova puntata di Insieme a Canestro questo focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro domani gli ospiti saranno Simone Zanotti Stefano Cioppi ed Elisabetta Ferri e grazie come sempre per averci seguito anche questa sera ci ritroviamo domani mi raccomando puntuali alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini grazie a tutti